Grazie Presidente, anche su questo atto mi auspico la massima condivisione e spero in un voto unanime. Chiediamo che la Toscana esprima solidarietà al PM Nino Di Matteo. Quindi questa è una mozione per impegnare il Consiglio regionale a manifestare solidarietà a Nino Di Matteo oggetto di continue intimidazioni mafiose. Nino Di Matteo è un esempio di servitore dello Stato minacciato di morte da Salvatore Riina e, secondo diversi pentiti, anche da Matteo Messina Denaro. La regione toscana si è da sempre schierata contro le mafie, subendo il prezzo altissimo di via dei Giorgofidi e di tantissimi atti di intimidazione che ancora oggi non ci rendono territorio immune dalla criminalità organizzata. Sappiamo bene quanto le mafie chiedano silenzio per operare nei loro roschi affari e quanto invece la politica possa squarciare il velo dell'omertà con atti di solidarietà verso chi, come oggi Nino Di Matteo, rischia la vita per difendere le nostre regole di convivenza civile. Con il nostro atto chiediamo che il Consiglio regionale risponda all'appello del Movimento Agende Rosse, ovvero esponga sul balcone rivolto a via Cavour uno striscione con su scritto «Noi siamo con Nino Di Matteo». Unisca a questo gesto una lettera di solidarietà diretta alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, all'attenzione del Dottor Di Matteo e infine partecipi istituzionalmente alla Manifestazione Nazionale di Solidarietà del PM, in programma a Roma il 14 novembre del 2015. Come disse il compianto Giovanni Falcone, la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.